Massimo Botti, ex coperario, ma soprattutto giocatore della canottiera Yonjina che ha fatto un grandissimo campionato Volley Night, si festeggia tutto il volley piacentino Max? Sì, è una bella serata, non c'ero mai stato, è la prima volta che vengo e partecipo come ospite Devo dire che è un evento che raccoglie un po' tutto lo sport, la pallavolo piacentina, giovanile, maschile e femminile Devo dire che sono contento di vivere questa serata Meriti anche di essere premiato come giocatore della canottiera Yonjina promossa in B1, lo ricordiamo Sì, è stata una bella stagione, coronata con un grande risultato, siamo contenti di rappresentare Monticelli e Piacenza in B1 il prossimo anno Un risultato ottenuto all'ultima giornata Sì, un po' reggambolesca, però è andata bene, penso che alla fine ce la siamo meritato Perché abbiamo lavorato sodo tutto l'anno e alla fine avevamo qualcosini in più degli altri Il prossimo anno ci sarà ancora Massimo Batti? Penso proprio di sì Se c'è la serietà di un progetto come è giusto che sia, come Monticelli lo è sempre stato, penso che non ci saranno problemi